Io sto preparando, eh? Cosa vi faccio? Un bel salsa in quattro formaggio o un pesto alla genovese? Veramente sono già fatti, però è come se le avessi fatti io. Che pasta volete? Pertelloni! Ravioli! Oh, non siamo mica in ristorante! E dov'è il problema? C'ho la duetta! Cos'hai comprato? La spaglia! Ma quale spaglia? Questo è uno dei regali di Buitoni fresco. Fa che regali! Buono questo pesto, ma come lo fa Diego? Mì, basilico, olio, grano, finoli, aglio, conservato in frigo. Hai capito? Buitoni. Star bene a tavola. Grazie.